Oltre 200 architetti intervenuti al workshop di infoprogetto organizzato da Action Group qui a Verona il 15 settembre del 2016 Il futuro dell'edilizia, progettare e riqualificare l'edificio in pianto in chiave sostenibile L'occasione è stata quella proprio di raccontare agli architetti intervenuti le novità del settore, i prodotti, le tecniche e i processi Vediamo Noi come Gruppo Basso sviluppando il settore di costruzioni, imprese generali di costruzioni, aziende prefabbricati abbiamo iniziato una collaborazione con gli architetti, un confronto per proporre il nostro servizio dando come general contractor per clienti, realizzando interventi commerciali, industriali e artigianali e il confronto con gli architetti è per trovare le soluzioni congeniali, per sopperire alle esigenze dei clienti e lavorare in gruppo con gli studi architetti, ingegneria e geometri per ottimizzare la qualità e ovviamente anche i costi Ovviamente questo nasce perché l'impresa, seppure con 70 anni di storia, deve ovviamente implementare, migliorare la qualità è il confronto sempre di più con i tecnici che è alla base del rapporto Qui a Verona abbiamo sempre trovato un tessuto molto aperto, noi come Gruppo Basso abbiamo costruito vari interventi tra cui la Bauli di Verona, il centro commerciale che adesso è in corso di costruzione qui davanti alla fiera di Verona per cui il confronto è sempre più aperto perché si trova sempre un tessuto libero e disponibile al confronto e all'ottimizzazione dei risultati Grazie a tutti